Vi offro tre cose di come noi possiamo lasciare andare, liberarci delle ferite che noi abbiamo ricevuto in nostra vita. Tutte le settimane qualche emozione nostra avrà una ferita perché qualcuno ci fa qualcosa, ci dice qualcosa. E questa ferita dentro di noi è una cosa che molte persone ancora vivono con queste cose. Camminano nella nostra vita con quella catena ancora dietro di noi. Quindi la cosa importante in nostra vita sarebbe poter lasciare andare, liberarci di quelle emozioni. Ora, quello che accade molte volte è che le persone sempre dicono non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia. Ora, ma quello è un'escusa qualche volta. Qualche volta quello è un'escusa. E quindi non vogliamo prendere le nostre scuse per liberarci di quello che noi abbiamo in nostra vita. Vogliamo veramente metterci di accordo per sapere che questa settimana forse qualcuno ci darà una parolaccia o ci farà qualcosa che farà una ferita in nostra vita. E le nostre emozioni saranno diversi. Quindi, non vogliamo giustificare il nostro presente, oggi, futuro riguardo a quello che noi abbiamo vissuto. Non vogliamo permettere che quello che noi abbiamo vissuto non ci lascia a essere più felici ogni giorno. Parlavo con un carissimo amico, dove io abito, e raccontavo che io gli ho fatto la domanda. Quante persone vengono dove tu lavori? Ah, 150. E quanti di coloro sono contenti? 30. Allora, dei 150, forse 120, hanno un atteggiamento così un po' irascibile, irascibile, escontroso, lunatico, brontolone, credo che si dice in italiano. Arrivano le persone con un atteggiamento così brutto. Ma, allora, vogliamo vedere che noi abbiamo l'opportunità di prendere la vita di una maniera molto diversa. Prima di dirvi tre cose, vi faccio vedere che oggi abbiamo tante cose per essere felici. Adesso voi potete ascoltare questo messaggio. Quello già è una cosa grandissima. Forse mi potete vedere. Già è una cosa grandissima. Forse oggi potete vedere il sole. Già è una cosa grandissima. Forse oggi qualcuno vi saluta. Già è una cosa grandissima. Forse qualcuno oggi vi racconta una bar seletta. Già! Abbiamo tante cose. Forse oggi tu vai al bar e ti prendi un caffè. Fuori dal bar. Va bene. Ma ancora puoi assaggiare un buon caffè. Quindi abbiamo già oggi delle cose. Possiamo ascoltare un uccello, una musica. Quindi già oggi abbiamo delle cose. Quindi vogliamo aumentare, dargli ricchezza alle cose che già abbiamo. Abbiamo una macchina. Io non c'ero una macchina. Abbiamo già una macchina. Quindi delle cose che abbiamo vogliamo già fargli vedere il grande valore che loro hanno. Quindi vi offresco tre cose per aiutarci a guarire, a lasciare andare le ferite emotive che noi abbiamo dentro di noi. Perché non vogliamo permettere che queste ferite avvelano nostra vita. Quindi la prima cosa che vogliamo fare veramente è cambiare canale. Forse a vostra casa avete la televisione e avviate il controllo. e con quello se noi abbiamo la nostra vita e la ferita, quasi sempre, quello ci riprende indietro e ci lamentiamo. è una cosa amara. Allora, subito quando abbiamo quel canale, vogliamo cambiare un altro canale. Una pianta, un uccello, un sorriso, un saluto, un caffè. La vita, abbiamo vita che Dio ci ha dato. Quindi godere il momento, arricchirsi con quello che abbiamo. Subito vogliamo cambiare. La seconda cosa che veramente vogliamo fare è alzarci e scuotere le polvere e seguire adelante. Vi racconto una storia. Tempo fa c'era un re e il suo figlio nacque malato. Quindi quando il re vede che il figlio forse non ce la fa, lui si mette a digiunare. Si mette in un posto e piange, fa delle preghiere, chiama a Dio, chiede aiuto e continua così per qualche giorno. Senza mangiare. Quindi il figlio non ce la fa. E lui vedeva nella sua casa che i suoi servitori avevano un atteggiamento diverso. Quindi lui riconosce che il figlio quindi lui si innalza si fa la doccia, si mette in altro abito e chiede di mangiare. Quindi tutti sono stupiti del suo atteggiamento e le fanno la domanda. Guarda, le dicono come tu puoi fare questo? Oggi mangi, ti hai fatto la doccia, ma se il tuo figlio è morto, sai che cosa lui ha detto? Io andrò da lui, ma egli non ritornarà da me. Ascoltate bene. Io andrò da lui, perché è morto, ma egli non ritornarà da me, perché io sono vivo. Quindi lui si è innalzato, ha lasciato la situazione che aveva accaduto e ha continuato a vivere. Quindi vogliamo innalzarci, scuotere le situazioni e seguire adelante. E la ultima cosa che vi dico, forse la più difficile, è perdonare. Ma io per esempio nella mia esperienza, quando qualcuno mi ha offeso e mi ha fatto una ferita che viene al cuore e mi esce profonda, no? Quello che ho fatto è che io mi chiudo in una stanza e faccio una confessione di perdono. Io perdono a questa persona perché mi ha fatto una ferita. La perdono e la perdono e la perdono. sapete voi che la salvezza la salvezza la vediamo perché abbiamo fatto una confessione tutti coloro che confessano che Gesù Cristo è il figlio di Dio sono salvi. Se deve confessare la salvezza. quindi io lo faccio e qualche volta lo faccio tre giorni qualche volta l'ho fatto tre settimane qualche volta l'ho fatto tre mesi ma dopo mi sento che non ho quella ferita ma è arrivato un balsamo alla mia anima al mio spirito alla mia testa e quindi sono libero. Quindi vi lascio queste tre idee e pensieri per voi lasciare andare le vostre ferite emozionali. Vi raccomando condividete il mio video se volete e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!